Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il fatto che abbiamo iniziato a incontrare i protagonisti in questi giorni della prossima campagna elettorale per le amministrative della prima settimana di giugno partendo dal comune di Pescara. Oggi è ospite nei nostri studi il candidato civico, il noto esponente, già vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Domenico Pettinari. Buonasera Pettinari. Buonasera ai telespettatori, direttore. Allora, Pettinari pronto per una nuova avventura in corsa già da tempo con la sua candidatura a sindaco della città ma anche con le liste che dicevamo prima di andare in onda, sono sostanzialmente pronte Pettinari, due liste che sosterranno la sua candidatura. Ci spieghi il progetto civico prima che politico per la guida della città. Sì, grazie. Io ormai da un anno sono partito e ho costituito una coalizione civica indipendente e equidistante fuori da tutti i partiti, quindi come alternativa a tutto ciò che ha già governato questa città negli ultimi decenni. E se nella città di Pescara ci sono ancora, mi lasci dire, 45 mila pescaresi che da 5, 10, 15, 20 anni non si recano alle urne, quella a mio avviso è una grande espressione di voto. E vuol dire che i cittadini pescaresi non si riconoscono più nei partiti. Io, la mia esperienza politica è stata comunque un'esperienza politica che si è sempre contrapposta ai blocchi di centrodestra e centrosinistra perché ho sempre ritenuto che centrodestra e centrosinistra tantissime volte, il più delle volte, sono due facce della stessa medaglia con programmi completamente sovrapponibili. Anche andando nel metrido del mio programma vediamo scelte scelerate che sono state comunque sovrapponibili. Come le dico io ho costituito una coalizione civica composta da più liste civiche, abbiamo diversi candidati, siamo partiti un anno fa per costruire il nostro programma, come mi piace dire a me, a 140 mani, 70 competenze della nostra terra che ho messo attorno al tavolo con esperti di ogni settore, abbiamo scritto questo programma davvero partecipato e condiviso con la cittadinanza. Come diceva due liste civiche che portano il mio nome, ho voluto rappresentare tutti i comparti della nostra società, a partire io ho un ex generale dei carabinieri tra le mie liste, un ex comandante dei carabinieri della stazione di Pescara e Montesilvano, un ex comandante del corpo forestale dello Stato, ingegneri, architetti, avvocati, esperti del mondo dell'imprenditoria o diversi titolari di attività produttive, commercianti, esperti del mondo dell'artigianato, segretari regionali di sindacati. Ho messo nelle mie liste anche e soprattutto il mio onoro di avere massimi esperti del mondo ambientale, degli laureati in scienze naturali, non solo agronomi forestali. Ecco, ho voluto rappresentare persone, medici, infermieri, operatori sociosolari, tutti i comparti della nostra società. Ho fatto un lavoro veramente, abbiamo fatto assieme con la nostra squadra, un lavoro veramente certosino e sono davvero onorato e orgoglioso di rappresentare questa alternativa ai partiti, perché a mio avviso i partiti hanno fallito nella gestione anche della politica nella nostra città soprattutto. Lei non da questa campagna elettorale, ma da sempre la sta facendo, la campagna elettorale porta a porta tra la gente nei quartieri. Ecco, parlando proprio con i cittadini, in cosa si è interrotto il rapporto tra la classe politica e amministrativa della città? Quando si diceva il sindaco è sempre più riconosciuto dai propri amministrati. E invece che sta succedendo in questi ultimi anni? Qual è il meccanismo che si è rotto in questa città e più in generale nel rapporto tra politica e cittadini? Sì, intanto le dico che dal mio osservatorio privilegiato, soprattutto perché io da un anno sto facendo il porta a porta, mi dicono che questa modalità di fare politica veniva attuata 30-40 anni fa. Il porta a porta significa che io a oggi ho stretto migliaia e migliaia di manni, sono entrato in oltre 1250 attività produttive e commerciali, entro con la mia squadra, mi presento, presento il mio programma, la nostra visione strategica, perché questa è una grande, e anche io ho voluto mostrare questo grande rispetto nei confronti dei cittadini. A me non va quei politici che magari si presentano, escono dall'uovo di Pasqua, mi lasci dire, in campagna elettorale, il mese prima, due mesi prima, incontrano un po' di associazioni di categorie e dicono di aver incontrato i cittadini. Non è così, bisogna incontrare le associazioni di categorie e massimo rispetto, ma bisogna andare a incontrare ogni singolo titolare di imprese, attività produttive, commercianti, artigiani. Io sono andato, entro a tutte le botteghe della nostra terra per capire soprattutto quali sono i problemi. Io questo ho fatto, un'attività che richiede sacrificio, ma è anche un modo bellissimo. Io poi l'ho sempre fatto, lei mi conosce, direttore, non è la prima volta in campagna elettorale, sono partito un anno prima, ma io ormai da dieci anni che sto ogni giorno sulla strada, sulla piazza, a occuparmi di un problema della mia terra. Non ho avuto mai l'onore e il primireggio di governare un ente. Ecco, io questo dico ai cittadini di Pescara. Mettetemi alla prova, io ho sempre, sono stato in opposizione, in minoranza, non ho avuto mai la possibilità di governare. Abbiamo un bel programma, vorrei illustrare in maniera anche sintetica, se lei mi consentirà. Sì, ma anche perché le sto per chiedere quali sono le emergenze principali della città, che proprio i cittadini le hanno segnalato, che magari sono sempre diverse da quelle che si scrivono nei programmi. Ha perfettamente ragione. Allora, la prima cosa che mi sta molto a cuore è che questa è una città a vocazione turistica commerciale. Una città a vocazione turistica commerciale non può più registrare, fotografare, un quadro che ci consegna, ogni tre negozi aperti e uno chiuso. Ecco, dobbiamo invertire questa rotta. Come si fa a invertire questa rotta? Io credo che bisogna agire con un grande piano Marshall, ma non solo. Riapriamo le tre porte d'accesso alla nostra città. Io dico tre porte d'accesso completamente scollegate al resto del mondo. Porto, aeroporto, stazione ferroviaria. Io punterò molto su questo. Il porto voglio far sì che si possa ricollegare con l'altra sponda dell'Adriatico o con un collegamento navale stabile. Non possiamo più non avere un collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico. Non dipende solo da un sindaco, ma il sindaco lo può avere come dossier principale sul proprio tavolo. Aeroporto di Pescara non si può sentire che mentre l'aeroporto perde rotte strategiche, altri scalini mitrofi guadagnano queste rotte strategiche. Un sindaco può fare, si può battere i pugni, si può sedere a tavolo, può concertare con un Presidente di Regione o Regione Abruzzo e pretendere almeno di riavere le rotte che avevamo. E credo che sia una priorità. E mi lasci dire l'area di risulta, che io non voglio più chiamarla l'area di risulta, deve diventare un grande polo attrattivo della nostra città. Un polo attrattivo che possa accompagnare il cittadino come una finestra aperta su una nostra città, scoprire anche le bellezze culturali, artistiche, architettoniche della nostra città. Oggi l'area di risulta parla di brutto, di bruttezza. Ecco, un far west, un'area pericolosissima, non è più possibile. Come vorrò fare questo? Mettendo intanto attorno a un tavolo, fare un concorso di idee con le migliori competenze della nostra terra, ma nella mia mente, comunque, nell'area di risulta, sicuramente non va un palazzo della regione, ma andrebbe una grande forestazione urbana, un parco urbano controllato, perché i parchi, se si realizzano, si devono controllare, altrimenti è meglio non averli. Ecco. E poi un parcheggio che può essere multipiano, interrato, perché non possiamo privarci di un parcheggio, è qualcosa che parla di noi, che ci accompagna noi. Commercio, mi lasci dire, io tre parole ho voluto inserire per il rilancio del commercio anche. Semplificazioni, agevolazioni e condivisioni. Semplificazioni significa un'amministrazione comunale non più nemica, ma amica delle attività produttive, cioè un'amministrazione che non mette più il bastone tra le ruote. Sburocratizzare è la parola cardine del mio programma. Agevolazioni dobbiamo incentivare e sostenere anche con delle zone franche, mi lasci dire, nelle periferie, putti e burtina, ci sono negozi che stanno chiudendo, non abbiamo più nulla. Lì bisogna fare una sorta di zone franche, di aree franche, per poter detassare, incentivare coloro che vanno a investire in quella terra e condivisione. I commercianti chiedono condivisione. Ci dicono, noi vogliamo partecipare a dei tavoli, io vorrò fare delle commissioni permanenti, con un potere quasi deliberativo, all'interno del quale far partecipare ogni commerciante che vuole partecipare, non solo le associazioni di categoria, per produrre dei piani triennali su tutti gli eventi che impattano sul commercio. Ecco, la grande condivisione. E poi, se mi lascia dire anche qualcosa sull'ambiente, che mi sta molto a cuore, noi abbiamo scritto un programma con uno dei massimi esperti di ambiente a livello regionale, l'ambiente, io voglio invertire la stazione buia e oscura della mattanza degli alberi, ma più mattanza degli alberi. Qui si capisce anche la mia collocazione civica e distante dai partiti. Guardate che gli alberi non li hanno tagliati solo questi centrodestri. Io ricordo perché c'ero, anche la precedenza amministrazione di centrosinistra, tagliava gli alberi, mentre gli ambientalisti si attaccavano agli alberi e beccavano denunce. Io ero lì. Quindi centrodestra e centrosinistra sono due facce, la stessa medaglia, che hanno fatto politiche sovrappolibili, che ripretono le cose. Quindi sull'ambiente, sul verde pubblico, abbiamo anche inserito una serie di iniziative bellissime. Io ho previsto dei microaccordi di programma tra pubblico e privato a ogni concessione pubblica, autorizzazione che dà il pubblico, il comune e il privato devono ridare qualcosa in cambio, tipo la piantumazione di nuovi alberi. L'abbiamo previsto anche una cosa bellissima, abbiamo previsto tante altre cose, parchi urbani lineari, aree ecologiche e tante altre sul sociale, la povertà. Mi lasci dire, veramente concludo, questa è una città che ha un quadro desolante, dei dati, 3.484 abitanti per chilometro quadrato, una densità demografica che ci pone come settima città d'Italia a fronte di Roma, che ne ha 2.600, 62 automobili ogni 100 abitanti, 2.500 automobili ogni chilometro quadrato. Significa abbiamo un problema di consumo del suolo. Noi non possiamo più consumare suolo, dobbiamo andare verso un consumo del suolo pari a 0,5% in alcune aree della città. Ad esempio, fronte mare dove c'erano quei villini, oggi realizzano parazzi, 7, 8, 9, 10 piani. Lì non si può fare, non ce lo possiamo permettere, non possiamo consumare suolo dove abbiamo una densità demografica che ci dà un alert, un allarme anche sotto il profilo dell'inquinamento della città. purtroppo quando si votavano queste cose il sacco di Pescara, come dico io, centrodestra e centrosinistra, l'unamità in consiglio regionale trasversalmente ci donavano, ci regalavano questa pagina oscura. Uno dei temi su cui lei si è molto esposto, anche personalmente, anche con diversi rischi personali, è quello della sicurezza. In questa città bastano più telecamere, bastano più demolizioni? No, direttore, no. Allora, sulla sicurezza io le diei molto chiare, le diei molto chiare perché, come dice lei, ero un bambino quando voi eravate forse i primi a seguirmi con la telecamera in via caduti per servizio, appena un maggiorenne, io iniziavo, muovevo i miei primi passi rischiando la mia vita. Quindi mi rendo conto di quali sono i problemi. Qui nella nostra città abbiamo bisogno subito di, uno, nelle zone calde, in alcuni quadrilateri caldi della città, attivare l'operazione strade sicure, cioè portare anche militari affiancati con pattuglie miste tra militari, forze di polizia e carabinieri che possano pattugliare anche a piedi H24 quelle zone. Non solo il pattugliamento a piedi, perché il pattugliamento a piedi, mi riesci a dire, è differente da quello con la macchina. Naturalmente macchina va bene, ma anche a piedi perché hai un controllo continuo e puntuale del territorio. Poi i sistemi di videosorveglianza nella nostra città vanno implementati perché a differenza di altre città italiane non contengono, non prevedono la lettura delle targhe. Che significa? Noi introdurremo la lettura delle targhe collegato con una blacklist nazionale, un alert che è qualora si intercetti l'auto rubata che sta entrando nel nostro quadrilatrio nella nostra città, parte un alert, la sala operativa mette su strada la pattuglia e lo ferma. Fermare l'auto rubata significa scongiurare tanti furti negli appartamenti perché vengono da altre regioni, arrivano alla nostra città con auto rubata e poi vanno a commettere furti. Ma intercettare l'auto rubata significa anche evitare che qualche killer, perché è anche accaduto questo, della mafia venga qui per sparare e ammazzare. Allora sono cose semplici, facciamolo, il sistema di biosorveglianza. Un'altra cosa importantissima e non possiamo prescindere dal fare i controlli, i posti di controllo. Io voglio vedere più posti di controllo e lo può fare la polizia locale, questo posti di controllo su strada. Significa anche controllare il sabato sera quando ragazzi si mettono drogati magari e ubriachi in macchina devono sapere che la città è cinturata con una serie di posti di controllo della polizia locale che ti fermano, ti tolgono la parende e non te la ridanno più. Ecco, queste cose vanno fatte tra forza e l'ordine, polizia locale e poi sulle case popolari ormai ho fatto una vita a dire cosa bisognerebbe fare. I delinquenti vanno fuori, i cittadini onesti... Rivedere tutte le graduatorie? Ma se in sombra di dubbio rivedere le graduatorie perché i delinquenti devono essere sbattuti fuori dalle case popolari perché lo dice una legge regionale, le case popolari devono essere date esclusivamente ai cittadini onesti, disabili, famiglie, eccetera, i minimi abbiendi che stanno marcendo in graduatorie. Sai che cosa stanno dicendo? Una cosa carina mettiamo in questi giorni. Mi chiamano alcuni, mi hanno telefonato alcuni delinquenti delle periferie dicendo Pettinari noi non ti voteremo. Mi scusi ma mi faccia capire intanto io dico subito il vostro voto non lo voglio ma poi dico mi spieghi il motivo perché è un grande motivo di orgoglio per me è perché ce l'hanno detto. Cosa vi hanno detto? E stanno spargendo la voce a me fa grande valore ci hanno detto che se Pettinari vince e diventa sindaco toglie le case a tutti quanti noi. Certo, le case criminali ed elinquenti allora qualche oppositore evidentemente per recuperare qualche consenso è veramente vergognoso sta dicendo non votate Pettinari perché io lo dico in televisione ai delinquenti e ai criminali delle periferie e le case popolari certamente che non dovete votare Pettinari perché io è una vita che mi sto battendo per le persone oneste non voglio più sentire che magari ci sia qualcuno che vada a promettere a quei signori e a quei delinquenti non ti preoccupare perché se vinciamo ti lasciamo la casa popolare non ti tocchiamo perché poi queste persone utilizzano la casa popolare per spacciare droga come profitto per fare profitto non perché hanno bisogno della casa popolare ma la casa popolare come bottega della droga noi avremo tolleranza zero quindi un motivo di orgoglio anche questo abbiamo gli ultimi 40 secondi io le chiedo un pronostico in questi 40 secondi sull'andamento di questa campagna elettorale intanto io purtroppo poco tempo non ho potuto parlare di tanti altri temi tipo i sociali gli anziani disabili perché noi abbiamo un programma davvero completo un pronostico io sono davvero quasi sorpreso della risposta stratosferica di consenso che i cittadini mi danno su strada i cittadini che sto incontrando direttore migliaia e migliaia di persone mi dicono non voto più da tantissimi anni tornerò a votare perché c'è lei alternativa fuori dai partiti è la cosa più bella già solo questo mi basterebbe e potrei dire abbiamo vinto perché significa che stiamo pescando laddove i partiti non pescono più cioè nell'astensionismo e quindi se l'astensionismo 45 mila pescaresi non vanno più a votare e si stanno riaffezionando perché questo mi dicono su strada è tantissimo e poi un'altra cosa importante tanti cittadini di centro-sinistra di centro-destra trasversalmente mi dicono io voterò lei perché sono deluso dai miei partiti perché comunque vedono a livello comunale non contano più le ideologie dei partiti conta la persona una persona come me si è occupata sempre di diritti tutela dei diritti degli ultimi degli indifesi dei disabili della povertà del sociale quindi chi più di me ha dato negli anni ha cercato di dare risposte ai tanti bisogni della nostra gente grazie e in bocca al lupo per la sua campagna elettorale a Domenico Pettinari appuntamento a domani con una nuova trasmissione del Fatto arrivederci grazie buonasera grazie a tutti